Un'amministrazione inadeguata a governare la città di Roseto è quanto sostiene Mario Nunes, consigliere comunale di Casa Civica, che nell'ultima assise ha dato battaglia in modo particolare sulle questioni legate al sociale su un errore che lui stesso avrebbe individuato in bilancio nel DUP, il documento unico di programmazione. Dopo un attento studio fatto con tutto il gruppo di Casa Civica è riuscito a scovare un errore abbastanza macroscopico ma che si nascondeva tra le righe del DUP e poi del bilancio rispetto al sociale. In pratica nel DUP, a pagina 64, così per gli più attenti potranno anche andare a leggerlo il documento, viene affermata un'affermazione appunto non vera, quindi ovviamente falsa, in cui si dice che il Comune di Roseto avrebbe interrotto il suo rapporto di convenzione con l'Unione dei Comuni il 31 marzo 2019, cosa non vera perché i servizi sono ancora in capo all'Unione e nel bilancio di previsione, a conferma di questo errore, i capitoli di bilancio destinati erano capitoli in capo al Comune, quindi circa 900 mila euro direttamente gestiti dal Comune che invece non potrà gestirli. La vicenda chiama in causa in qualche modo anche l'Unione dei Comuni, l'ente d'ambito sociale con cui l'amministrazione rosetana ha cercato nei giorni scorsi un confronto, soprattutto per dipanare la matassa sulle questioni legate al pagamento delle cooperative che garantiscono una serie di servizi importanti a vantaggio delle fasce più deboli, quali anziani e disabili. Chi ha seguito la questione negli ultimi giorni di polemiche tra il Sindaco, l'Unione dei Comuni e sulla pelle delle cooperative, sulla pelle degli operatori, sulla pelle degli utenti, penso che rimarrà un po' confuso. Ecco, dati, numeri, studio alla mano dimostrano che questa amministrazione deve tornare indietro, deve farsi aiutare, deve ascoltare chi oggi si mette a servizio come noi, ma non perché vogliamo farci belli, ma perché pensiamo che sia necessario farlo per la comunità. Nugnes invita comunque le parti ad una riflessione serena, ad abbassare i toni, ad un nuovo confronto per arrivare alla soluzione migliore, garantendo appunto ai dipendenti delle copp gli emolumenti spettanti. Il Sindaco ha detto un'affermazione abbastanza strana del tipo che il 13 aprile, data in cui si è depositato il DUP, lui presumeva che entro il 31 marzo si sarebbe fatto in tempo a creare la sottozona. Per chi prova ad andare a leggere il piano sociale regionale capirà che il percorso è molto più lungo e come ho detto in consiglio, se questa ma ci sarà, non ci sarà prima di settembre 2019. Quindi bisogna tornare indietro, bisogna modificare il DUP, bisogna modificare i capitoli di bilancio, bisogna sedersi con l'Unione per cercare di non inasprire i toni e non come ha fatto il Sindaco, attaccando pubblicamente politici e tecnici dell'Unione con parole aspre ormai in streaming e quindi alla portata di tutti. Seconda cosa, bisognerà poi rassicurare le cooperative e i soggetti che operano nel sociale per far sì che i pagamenti arrivino nei tempi dovuti e per far sì che i problemi si risolvano e non si inaspiriscano.